Ciao, ciao carissimi amici e amiche, sono a Bologna come potete vedere allora, quelle sono le due torri, che belle, e niente, sto raggiungendo un pub sono in compagnia, mi sono staccata un attimo dal gruppo e niente qui a Bologna tutto bene, tutto bene qui a Bologna, bellissima città e niente, adesso andrò a un pub e sono molto contenta perché puoi stare cittadina, invece devo sempre stare, insomma vabbè, lasciamo stare e niente, volevo solo dire una cosa, mi hanno chiesto ma puoi parlarci del satanismo guardate, io soltanto per aver messo quel post di Wikipedia ho perso 100 iscritti ma non è per quello, non è per quello che lo faccio, non mi importa niente è che, aspettate, faccio vedere, guardate come sono belle guardate che bellezza no, è che appunto, cioè io mi sono risposta già tanto, nella mia vita ho avuto già tanti problemi quindi ormai tanto, chi è della mia corrente spirituale lo sa, ci riconosciamo fra di noi e tutti i contenuti scusa, tutti i contenuti che io, la gente non vuole essere inquadrata, inquadro me stessa cioè tutti i contenuti che io ho fatto sul mio canale sono in linea alla fine cosa che non sono andata a guardare sono in linea quindi, va bene, e niente, io ora cerco il pub cerco un pub cerco il pub e poi ci vediamo, ci vediamo dopo ciao, ciao, a dopo, a dopo, seguitemi seguitemi, eh, a dopo, a dopo ciao